La notizia della scomparsa di Mino Raiola ha scosso tutto il mondo del calcio a livello internazionale. Che ricordi ha lei di un procuratore che ha fatto comunque la storia recente del calcio? È partito dal nulla ed è approdato all'Olimpo del Calcio come agente, gestendo i migliori giocatori che ci sono in circolazione in questo momento, da Ibrahimovic a Pogba e da altri, è veramente un personaggio, poi ha costruito su di sé un personaggio pazzesco, che era duro ma leale devo dire. Ho conosciuto molto bene, in qualche occasione quando portavo qualche giocatore per esempio al Milan non famoso mi chiedeva sempre l'opinione, cosa pensavo, è bravo, non è bravo, cosa pensi, ha un futuro, non ha un futuro. Abbiamo avuto comunque un rapporto abbastanza professionale sicuramente, ma anche di vicinanza. A livello professionale com'era trattare con Mino Raiola? Lui faceva gli interessi dei calciatori fino in fondo, era duro ma devo dire lui voleva difendere sempre i calciatori, per lui tutti i suoi calciatori erano i migliori del mondo e devo dire che professionalmente era ineccepibile.